Ritenevamo importante offrire uno strumento affinché potesse essere messo a disposizione dei turisti, dei cittadini e di tutte quelle realtà culturali di promozione turistica, associazioni sportive che lavorano sul nostro territorio in modo tale da poter raccontare l'esperienza delle eccellenze che sono presenti a Reggello. Quindi questo è un sito nato da una collaborazione con il territorio e con le eccellenze del nostro territorio ma soprattutto è un sito che si mette a disposizione di coloro che vogliono far conoscere il nostro territorio di coloro che vogliono anche venire a Reggello per sapere cosa possono trovare quindi uno strumento importante che da oggi deve essere reso vivo e quindi veramente sono molto soddisfatto, ringrazio chi ci ha lavorato, ringrazio le realtà del nostro territorio che con questo strumento potranno veramente esprimere tutte le potenzialità che Reggello è in grado di fare. Inizia per noi una stagione turistica importante e abbiamo deciso di aprirla presentando quello che è uno strumento di promozione del nostro territorio cioè un nuovo sito. Abbiamo deciso di dare una nuova veste a Visit Reggello come strumento di promozione e abbiamo pensato di dotare quelli che sono gli operatori turistici di uno mezzo che sia un luogo aperto che sia uno strumento dinamico in cui tutti possono inserire le proposte e quindi valorizzare quelle che sono le esperienze che si possono vivere sul nostro territorio. Infatti nel nostro nuovo sito abbiamo anche individuato delle sezioni legate proprio alle stagioni perché il nostro obiettivo è la destagionalizzazione dei flussi ovvero mostrare che anche durante la stagione non estiva e prima deriva anche in inverno e in autunno ci sono delle offerte importanti che possono essere attrattive per i turisti.